Se Frosinone è una delle città italiane con il tasso di motorizzazione più alto ad essere penalizzato il trasporto pubblico. In attesa che si completi l'iter dei ricorsi contro la gara per la gestione futura integrata del servizio di trasporto locale, bike sharing e ascensore inclinato, i numeri pubblicati dall'ISPRA sono di un capoluogo dove a salire sul mezzo pubblico sono in pochi. Anziani, stranieri, studenti per il tragitto casa-scuola e nulla più. I dati del rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano evidenziano la diminuzione dei passeggeri, degli autobus e dei posti per chilometro offerti dal trasporto pubblico. In una città come Frosinone, fortemente inquinata dalle polveri sottili alle prese con le limitazioni al traffico veicolare, il dato risulta andare nella direzione opposta di quella auspicata da chi ha a cuore la qualità dell'aria. In cinque anni si sono persi due utenti su dieci. Se nel 2011 i passeggeri annui trasportati per abitanti erano 20, nel 2016 si è scesi a 15,7. L'andamento è stato oscillante. Nel 2012 si è raggiunto il minimo storico, con 14 per poi registrare una risalita al 18,4 nel 2012. Una tenuta l'anno dopo, 18,2, fino agli attuali 15,7. Nel Lazio solo a Latina si usa il mezzo pubblico, pur con una risalita dai 6,6 del 2011 ai 7,8 del 2016. Nel 2014 Latina era arrivata al 9,6. Impietoso il confronto con Viterbo, che ha 23,3 passeggeri annui per abitante, e Rieti, che sfiora i 45. Eccettuate le grandi città e Venezia spiccano i quasi 330 di Trieste e i 207 di Siena. Nel 2016, secondo i dati raccolti dall'ISPRA, hanno viaggiato sul mezzo pubblico a Frosinone 730.000 persone, ovvero il 22,41% in meno rispetto al 2011, quando il totale si aggirava sui 940.000 utenti. Il minimo storico, con 650.000, è stato raggiunto nel 2012, mentre nel 2013 e 2014 il valore era il rialzo fino a toccare gli 850.000. Per avere un confronto con le altre province, Rieti ha avuto 2,1 milioni di passeggeri, Viterbo 1,5 e Latina quasi un milione. Eccetto Latina, in tutte le altre province, gli utenti del mezzo pubblico sono in calo, del 44% a Rieti, del 35% a Viterbo e del 21% a Roma. A Frosinone la disponibilità di bus era di 83,3 veicoli per 100.000 abitanti nel 2011. Cinque anni dopo, Frosinone è scesa a 45, in Roma 85, nel resto del Lazio Latina è passata da 46 a 31, Viterbo stabile a 44, mentre Rieti è calata da 121 a 80. Per numero di veicoli, nei cinque anni Frosinone è passata da 39 a 21, Latina da 54 a 40, Rieti da 56 a 38, mentre Viterbo è cresciuta da 28 a 30. Nel 2015 Frosinone aveva 11 bus euro 5 e 9 euro 4 o inferiori. L'anno successivo 2 euro 6, 10 euro 5 e altri 9 da euro 4 in giù.